Noi ci abbagliamo tantissimo degli enti di formazione come gli ITS, ovviamente, che svolgono un ruolo preziosissimo e i loro corsi tendenzialmente sono premiati poi da una fortissima occupazionalità di coloro che li hanno frequentati, ma anche corsi di istruzione e formazione professionale che spesso risolvono anche questioni di abbandono scolastico e reinseriscono dei ragazzi che hanno lasciato la scuola e le reinseriscono all'interno di un percorso, magari un percorso che avevano calibrato male all'inizio e che poi riprendono strada facendo. Tendenzialmente ci orientiamo sempre su corsi duali, nel senso esperienza sia teorica, ma anche esperienza tecnica all'interno delle imprese stesse, in laboratori, ma anche all'interno delle imprese stesse. Questo io lo ritengo fondamentale come preparazione. Non disdegniamo ovviamente l'attenzione alla formazione continua, perché oggi il mondo del lavoro cambia repentinamente ed evolve continuamente. Grazie 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 Grazie